ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare candex 90 cps metagenics italia srl ultimo aggiornamento 19 aprile 2022 immagine candex 90 cps immagine candex 90 cps a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze allergeni ingredienti apporto nutrienti a cosa serve candex 90 cps è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la funzionalità intestinale è commercializzato in italia dall'azienda metagenics italia srl informazioni commerciali titolare metagenics dba belgium concessionario metagenics italia srl categoria di appartenenza integratori per la funzionalità intestinale forma farmaceutica capsula confezioni candex 90 capsule 90 capsule candex 90 cps 90 capsule indicazioni sostiene l'equilibrio microbiotico e la salute dell'intestino modalità d'uso 1 3 capsule al giorno in qualsiasi momento della giornata e indipendentemente dai pasti descrizione e caratteristiche è un integratore a base di acido caprilico ed estratti vegetali appositamente formulato per mantenere un normale equilibrio della flora intestinale i suoi ingredienti contrastano la proliferazione di batteri patogeni e liediti caprilato di calcio fonte energetica pompelmo citrus grandis antiossidante funzionalità del microcircolo drenaggio dei liquidi corporei berberi saristata contribuisce alla regolazione del metabolismo del colesterolo contribuisce alla salute della pelle e del fegato aglio allium sativum estratto di aromatizzato ha una funzione digestiva e antiossidante origano origano un vulgare contribuisce alla normale regolarità intestinale e all'eliminazione di gas adatto ai vegani e ai vegetariani avvertenze non usare nei bambini in gravidanza e allattamento allergeni senza soia senza lattosio senza glutine ingredienti maggiorana selvatica estratto di foglie oregano un vulgar l calcio caprilato di calcio pompelmo estratto di semi citrus grandis l osbeck bioflavonoidi di agrumi chiodi di garofano estratto allium sativum l allicina berberina contiene anche idrossipropilmetil cellulosa cellulosa microcristallina silice apporto nutrienti ingredienti per capsula estratto secco di foglia di origano oridannum vulgare l 50 mg calcio mono caprilato 200 mg 11,6 per cento estratto di semi di pompelmo citrus grandis di cui bioflavonoidi 50 per cento 150 mg estratto secco di bulbo di aglio allium sativum di cui allicina 1 per cento 70 mg estratto secco di corteccia di berberis aristata di cui berberina 95 per cento 79 mg fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato